ciao a tutti nuovo tutorial di crusader kings 3 ripartiamo da dove ieri abbiamo visto un pochino nel dettaglio come vedere le varie caratteristiche del personaggio gli abbiamo trovato una moglie e quant'altro cominciamo a vedere gli altri pannelli abbiamo visto il pannello in alto il pannello in basso a sinistra le mappe manca tutto questo po di roba qui a destra che è il core vero della del gioco cominciamo dal real ma dal reame regno di svezia regno feudale abbiamo 23 countries counties in questo reame di cui quattro persone nostro domenico 19 sono vassalli quindi questo che cosa vuol dire che quattro dei territori all'interno del regno di svezia sono direttamente nostre proprietà mentre gli altri restanti 19 sono proprietà di vassalli qui abbiamo il pannello della crown authority sostanzialmente sono quattro livelli e ognuno di questi livelli darà una serie di privilegi e re rispetto ai suoi vassalli noi in questo momento abbiamo il grado 1 che vede autonomia dei vassalli rispetto alla corona che provvedono sia levis sia truppe sia tasse ma che allo stesso tempo sono liberi di fare ciò che vogliono il secondo livello è una limited crown authority questo che cosa ci permette ci permette di cambiare alcune delle leggi sulla successione possiamo revocare i titoli possiamo insomma agire sui vassalli e e soprattutto sono costretti a dare il 5 per cento delle levis e il 2 per cento delle degli income queste due come vedete sono in giallo quindi noi le possiamo in realtà attivare da subito se andiamo a vedere il terzo la high crown authority e poi anche la absolute crown authority vedete che noi non possiamo attivarlo e ci dice anche il perché perché non abbiamo la legge limited crown authority quindi è una progressione non possiamo passare dalla 1 alla 3 ma dobbiamo fare 1 2 e 3 e perché la nostra cultura non ha le prerogative reali e royal prerogative innovation andiamo a vedere che questo ovviamente da un'altra serie di azioni che possiamo compiere ovviamente i vassalli sono meno contenti perché gli abbiamo un controllo più stringente perché il loro contributo in termini di levis e di gold è molto più alto addirittura aumenta del 10 per cento noi possiamo sostanzialmente scegliere tra tutte le leggi di successione e questa è una cosa molto importante e i vassalli non possono fare guerre tra di loro non possono essere ereditati da personaggi al di fuori del reame i titoli dei vassalli che tutti i vassalli che rifiutano i titoli revocation o a vengono considerati criminali e ovviamente la stessa cosa che c'era prima quindi provvedono al 15 per cento delle levis e 5 per cento degli income quindi sostanzialmente ancora più stringente andiamo alla 4 anche qui non abbiamo le royal prerogative che quindi sbloccherebbero tutti i due bottoni mancherebbe il bottone 3 per sbloccare il bottone 4 perché appunto è progressivo e qui vedete senza che vi distordire poi insomma li leggete anche da voi possiamo per esempio disegnare le rete direttamente questo è importante questi sono i domain in realtà questi qui sono i quattro direttamente nostri quindi il ducato di hapland il ducato di bergslagen il ducato di versegutland e östergutland quindi questi sono i trattato vestergutland è un petty kingdom e vedete vicino ci sono i valori che ci dice il controllo lo sviluppo della contea del piccolo regno e quanto ricaviamo di tasse quante levis ci danno e questo è il pannello clicchiamo su vassalli avremo tutto l'elenco che caricherà ok dei nostri vassalli tra cui ci sono anche i nostri familiari per esempio il principe eric terzo di eden of sweden insomma qui potete vedere anche i loro livelli di tassazione che sono i livelli normali e tutto il resto dopo di che se andiamo a vedere qui ci sono gli altri tipi di vassalli che abbiamo perché ci sono quelli che hanno rispetto a noi obblighi feudali quelli che hanno obbidi teocratici perché appunto è un principe vesco quelli che hanno addirittura delle repubbliche all'interno si tratta dei comuni sostanzialmente per esempio c'è il major starkart di arboga il major colbjörn di utlanden e via dicendo se andiamo a vedere qui è il pannello fondamentale di tutti questi verso tutti importanti ma questo è quello più importante c'è la successione la legge di successione in questo momento è una confident partition che cosa vuol dire che tutti i figli ereditano ugualmente e questo è un problema perché nel momento in cui non è questo il caso il nostro re nostro sovrano maschio o femmina che sia muore i figli erediteranno se noi andiamo a vedere la nostra gender law è una male preference quindi vuol dire che le donne possono prendere il trono ma che c'è una preferenza per tutti e gli eredi maschili ipotizziamo di avere due figli maschi abbiamo mail preference ma allo stesso tempo la confedert partition quindi entrambi i nostri due eredi erediteranno una parte del regno questo che vuol dire che il regno si partizionerà e noi avremo la possibilità di giocare di nostro erede principale sarà di solito il primo genito dobbiamo evitare questo problema come vedete non possiamo fare una disegnete dei perché non possiamo disegnare il nostro re dal trono perché servirebbe l'absoluta notori di in questo momento i nostri vede è il nostro fratello il prince austen stankilson che come vedete a se steck is not your primary e quindi ci vuole far ricordare questa cosa è infatti alla nostra successione perderemo il titolo della regno di svezia che passerebbe automaticamente a prince e quindi sostanzialmente se ho capito bene anch'io perché è la prima volta che gioco con la svezia una volta morto il nostro principe il nostro re lasceremo il titolo di re a eric terzo e noi però come erede giocheremo solo come conte principe e quello che è di questi sovrani quindi questo è il discorso tra l'altro kingdom of sweden da quello che vedo è una monarchia elettiva quindi una cosa anche più particolare insomma ci sono tutta una serie di altri di altri fattori che riguardano nel caso specifico la svezia non li vedremo magari nel dettaglio non so saremo l'occasione perché qualche turno di gioco tra virgolette lo faremo tendenzialmente in altre monarchie questo non avviene dipende sempre dalla fazione che sceglierete c'è un discorso che riguarda il passaggio da una all'altra cronotority per esempio se noi vogliamo passare alla limited cronotority possiamo semplicemente far passare la legge perché decidiamo e facciamo passare la legge questo poi comporta una serie di appunto malus o bonus e direi che per quanto riguarda le leggi abbiamo visto tutto ma abbiamo introdotto un argomento se vi ricordate per passare dalla 3 alla 4 abbiamo bisogno della culture specifica delle royal prerogative le culture le ritroviamo di nuovo qua sotto vi avevo fatto vedere semplicemente la casata e il personaggio mancavano questi due bottoni che sono rispettivamente la fede e la cultura se andiamo sulla fede vediamo brevemente questi sono tutte le caratteristiche della fede che in questo momento si professa in svezia che è cattolicesimo quindi porta all'hermet pilgrimage la comunione monasticismo i peccati considerati sono la lussuria la gola e tutte le altre il sadismo vendetta e via dicendo le virtù sono la castità la temperanza l'onestà compassionevolezza e il perdono ovviamente male dominated ecumenismo insomma queste sono tutte cose che tra l'altro si possono cambiare nostro al momento aid of fate è papa alessandro secondo che almeno da quello che vediamo non sembra passarsela bene no è semplicemente la mini immagine che sembra che sta conciato male come vedete abbiamo anche l'elenco degli oli saez roma colonia santiago cancerburi e gerusalemme che sappiamo non appartenere alla fede cattolica in questo momento possiamo anche creare una nuova fede ma questo è una cosa che si fa diciamo dopo vediamo solo il comando ecco punto possiamo addirittura scegliere un nome e poi abbiamo una serie di punti fede che possiamo spendere ne servono tantissimi perché erano una fede di base meno 1925 mano a mano che voi andrete a selezionare nuove impostazioni per esempio da mail dominated mettiamo equal aumentano i punti che costano e potete vedere tutte le varie fedi che potete creare da questi pannelli quindi si può vedere per esempio se il clerical gender deve essere solo uomini donne o entrambi se la stregoneria viene considerata criminale accettata o tollerata e via dicendo senza andare a vedere ovviamente tutte queste scelte andranno a ripercuotersi poi sulla vostra gestione politica dello stato inevitabilmente ma appunto il fatto di fondare una fede è una cosa che si fa solitamente molto più avanti nel gioco proprio perché richiede tantissimi punti di pietà andiamo all'altra cosa importante che è la cultura la cultura del nostro stato è svedis nostra caratteristica ed essere belligeranti bellicosi abbiamo una serie di linguaggio è appunto il nordico abbiamo l'estetica svedese marshal e solo manholly ovvero che solo gli uomini possono diventare comandanti o cavalieri abbiamo queste tradizioni come vedete possiamo poi fare una riforma cambiando questi parametri che come al solito andranno a influenzare in qualche modo sempre la politica è inutile che andiamo a vederli anche perché cambiano ogni volta di base allo stato in base al regno che noi abbiamo la con te a quel che è la cosa importante qui sono tornato troppo indietro è le innovations le innovations sono importantissime ed è uno dei motivi per cui anche avere un sovrano molto bravo in cultura può aiutare perché può velocizzare il processo di apprendimento di queste innovations che sono divise per epoca cronologica si parte dalle tribali che corrisponderebbero più o meno per fare un orizzonte cronologico a 476-950 le only medieval che va da 950 fino al mille e rotti poi questo dipenderà dal momento in cui ci sarà l'apprendimento del nuovo quando si arriverà al passaggio del high medieval e infine del late medieval che come potete vedere ve lo dice qui questo non può essere sbloccato il late medieval prima del 1200 mentre al contrario like medieval per ora non abbiamo alcun blocco sul periodo in cui si può sviluppare ma vedete che ci sono dei progressi che andranno fatti il monthly blockers più 040 questo se il vostro sovrano è particolarmente bravo e lui effettivamente è abbastanza bravo in letteratura aumenterà o diminuirà questo valore e anche come al solito sulla base delle scelte ci vorranno circa 21 anni per il passaggio al high medieval qui abbiamo una serie di riforme che riguardano primamentemente tre campi militare civico amministrativo e culturale e regionale se noi andiamo a vedere se noi andiamo su late medieval troviamo la primogenitura che era una di quelle che serviva per avere come erede al trono direttamente il primogenito quindi senza la partizione e l'altra dovrebbe essere possibile che sia qui eccole qua le royal prerogative quelle che vi dicevo servono per sbloccare ve lo dice anche il pannello di enact the high crown authority and the absolute crown authority quindi queste sono importanti ognuna di queste ci dà una serie di vantaggi per esempio il manualismo ci dà un vantaggio sulle construction time il coinage ovviamente ci dà un vantaggio sulle crescite e sullo sviluppo e via dicendo è inutile che vi sto spiegando tutti di solito la cosa migliore da fare è fare un equilibrio tra quelle civiche e quelle militari io sinceramente fino ad ora ho usato pochissimo quelle culturali e regionali che comunque sono importanti piano piano comunque si sviluppano tutte l'obiettivo è cercare di avere quanto prima sbloccate le cose fondamentali per i bonus sugli assedi altrimenti gli assedi durano un'infinità e poi puntare su quelle ereditarie poi ovviamente anche qui dipende dallo start dipende dalla nazione che scegliere dipende da tante cose capire quali sono sbloccate e quali non sono sbloccate perché ovviamente sono legate alla cultura quindi ogni cultura ha un tipo di innovazioni che altre non hanno come potete vedere sappiamo anche che diverged from north in the year 1000 quindi dall'anno 1000 la swedish culture si è divisa da quella north quella norrena e anche per le culture abbiamo portato a casa il risultato se proseguiamo allora abbiamo visto le culture abbiamo visto il real ma andiamo sui militari militari qui abbiamo il pannello che ci dice quante sono le levis e sappiamo già che fossero 2.190 si tratta delle truppe non specializzate a quel punto questi si aggiungono i men of arms che sono appunto soldati professionisti che sono superiori a livello tecnico delle levis ma sono minori di solito in inferiorità numerica per esempio noi abbiamo 4 scarli e una sola catapulta se noi andiamo su create a men of arms regiment ci apparirà un pannello con i rispettivi costi di altre unità ognuna di esse ha dei bonus e dei malos e ognuna di esse ha un costo per sbloccarle e soprattutto quello che vedete qui in basso è il costo di mantenimento i nostri scarli ci costano 1.84 al mese che nel momento in cui verranno raisati scopriremo poi più avanti che cosa vuol dire cioè verranno schierati costa addirittura 5.52 tenete conto che noi adesso abbiamo più 5.4 vuol dire che nel momento in cui schiereremo le nostre truppe sicuramente il nostro bilancio andrà in deficit o comunque andrà in perdita stessa cosa riguarda le catapulte che hanno un costo di mantenimento più abbordabile 9 centesimi al mese 29 nel momento in cui sono schierati le levis di base non costano 0 e costano solo nel momento in cui vengono schierate abbiamo poi i cavalieri i cavalieri sono appunto i nostri comandanti potremmo dire ovvero i soldati più emblematici e più forti del nostro esercito essi sono reclutabili all'interno della nostra corte molto spesso possono essere nostri familiari e adesso lo vedremo nel pannello adeguato successivo piccola parentesi sui mercenari come vedete ci sono una serie di bande di mercenari che possiamo reclutare questo è il loro costo che viene pagato al momento questo è il loro valore e se vedete sul pannellino vi da anche il dettaglio di che truppe ci sono all'interno in realtà credo che ve le dia anche esattamente vedete anche qui dai simboletti per esempio la Other Free Company che costa 5,95 è composta da cavalieri appietati armored scudati insomma armati con l'armatura e dei light footmen quindi quelli con l'armatura leggera e costano 5,95 saliamo di prezzo adesso il Danish Band of Warbass hanno comunque sempre gli armored footmen hanno anche i pickmen quindi con la picca e S&P light footmen e questi hanno un costo un costo poi che ovviamente viene pagato durante il loro impiego e mantenimento gli oli orders per ora non ne abbiamo ovviamente possono dare una mano alle nostre truppe altro tasto importante il rally points clicchiamolo e questo praticamente è il punto in cui le nostre truppe si schiereranno sostanzialmente quindi se noi vogliamo cambiare in questo momento il nostro rally point è nell'estrigines che adesso è difficile così com'è da trovare vediamo un po' se lo peschiamo subito non lo trovo vediamo un po' se facciamo così eccolo qua è questo piccolo punto qui queste sono le strigine col tasto che ho premuto noi possiamo scegliere di schierarli in un altro punto siccome probabilmente andremo a occupare i territori qui sopra che sono piccoli staterelli direi che questo potrebbe diventare un buon punto e come vedete se andiamo a vedere i rally point adesso è diventato questo qui torniamo a cliccare sui cavalieri ci si apre il pannello cavalieri che hanno un valore di prowess skill vicino che come vedete ogni punto di prowess dà 100 danni e 10 di resistenza quindi lui per esempio prince eric of upland è abbastanza forte ci sono valori molto alti fino a valori molto bassi tipo dire a 1 quindi insomma non è propriamente il massimo i comandi che vedete qui sono appunto force cioè lo forziamo a diventare un un cavaliere glielo permettiamo hallo oppure dimentica non lo far joinare per esempio il nostro dire dovrebbe andare su forbid perché è veramente pessimo stessa cosa peter stessa cosa alexander stessa cosa halston e direi sostanzialmente tutti loro in realtà anche i 7 sarebbero abbastanza scarsi e dovremmo tenere solo i più importanti come vedete se abbiamo degli ospiti all'interno della nostra corte ci arriveremo presto possiamo decidere di recrutarli se hanno dei buoni valori ovviamente questo ha un costo se io clicco su recruta vedete lo pago 25 lui diventa adesso è attualmente un membro della mia corte lo recrudo definitivamente all'interno della corte e lui diventa un mio cavaliere vabbè recludiamolo già che ci siamo spendiamo questi danari quando raisate le truppe quando le schierate si schierano automaticamente sia le levis sia le menatams essia e i cavalieri e anche il pannello militari è concluso vediamo se riusciamo in tempi piuttosto brevi a parlare del council direi che ce la facciamo il council è il nostro concilio ristretto ogni membro del concilio ogni concilio insomma ha questi sei personaggi che sono sostanzialmente sempre gli stessi se non erro forse per altre culture cambiano non sono sicuro ma tendenzialmente fanno lo scopo che hanno è sempre quello ovviamente cambia il vescovo che non è il vescovo ma è sempre una figura religiosa la regina la nostra regina può assisterci e possiamo scegliere di fare uno di questi compiti questo permetterà a lei di darci dei bonus su quella materia scelta ovviamente è inutile farlo sulla cavalleria dove il nostro svan è molto importante calcolando i punti buoni che ha e calcolando la nostra strategia che in questo momento personalmente è lontana dagli intrighi di corte sarebbe buona cosa dargli un più 5 sulla diplomazia o un più 3 sul marriage domain direi che andiamo più 5 sulla diplomazia in questo frangente poi vedremo se cambiare e questi sono i compiti della regina talvolta può capitare che non trovate la vostra regina qui nonostante voi siate sposati questo avviene quando la regina è sovrana contessa duchessa o quello che vi pare di un altro territorio se la nostra stella diventasse regina di scozia non la vedremo più qui perché lei sarebbe nella sua corte in scozia l'arcivescovo è uno dei ruoli più importanti del gioco perché vi permette di fare la cosa che vi permette di conquistare ovvero il claim on county se noi clicchiamo sul claim on county ci apparirà questa bella mappa che è la stessa con tante con le micro con te e regioni e noi possiamo chiedergli di fare un claim quindi una nostra richiesta una nostra rivendicazione ecco il termine esatto su un territorio che ci può interessare per conquistare in questo caso torniamo un attimo indietro l'hungermanland che ha 449 abbastanza scarso e il chieftain told of hungermanland non sembra neanche troppo pericoloso potrebbe diventare il nostro obiettivo io gli ho dato infatti di fare il claim su questo chieftain e che attaccheremo una volta che il claim è concluso quindi sostanzialmente a cosa serve il claim la rivendicazione serve per poter dichiarare guerra talvolta alcune rivendicazioni verranno nel corso del gioco tramite eventi tramite i cortigiani che abbiamo a corte o tramite il matrimonio quello che è possiamo ricavare dei claim su altri territori senza dover passare dal nostro arcivescovo l'arcivescovo poi ha una serie di funzioni giustamente anche quelle che effettivamente gli competono più da vicino ovvero convertire la fede in una contea oppure migliorare le relazioni religiose andiamo a cancelliere ah tra l'altro attenzione la regina ovviamente è la vostra sposa e l'arcivescovo non può essere cambiato perché come vedete nella religione cattolica non c'è la possibilità di revocare il clerical appointment questo ovviamente non avviene per altre religioni o per le religioni da voi create in cui mettete che potete cambiare appunto il vescovo andiamo al cancelliere il cancelliere che cosa fa uno migliora il favore reale quindi permette di auto celebrarci e far sì che i nostri vassalli aumentino il loro supporto a noi può integrare i titoli quello che succede quando noi abbiamo dei titoli che in realtà non ci appartengono ma che noi ereditiamo o eventualmente acquisiamo tramite conquista possiamo integrarli nel nostro tramite l'operazione del nostro cancelliere domestic a fare altra cosa molto importante come vedete ci permette di migliorare quelli che sono le relazioni sempre all'interno dei nostri territori quindi può migliorare l'opinione dei vassalli può migliorare i contratti feudali può porre fine a guerre interne oppure può forzare la partizione dei vassalli in alcuni casi poi ci sono anche dei malus eventualmente se il nostro cancelliere non fa il suo dovere infine gli affari esteri gli affari esteri ci permettono di migliorare le nostre sostanzialmente relazioni con gli altri stati e soprattutto uno degli dei possibili bonus è quello di far accorciare le tregue sostanzialmente dopo una guerra si arriva a un punto in cui c'è una tregua dichiarata per un tot di anni di solito sono 5 10 e si possono ridurre se il vostro cancelliere fa un ottimo lavoro negli affari esteri steward altro ruolo importantissimo che è quello che gli compete la pecunia lui può promuovere la cultural acceptance quindi migliorare l'accettazione culturale della nostra cultura su territori che non lo hanno può promuovere la cultura in generale questo lo può fare anche all'interno dei nostri territori può migliorare lo sviluppo nelle contee quindi come vedete da una serie di bonus sulla tassazione sulla crescita per mese dello sviluppo e sul costo di costruzione dei building e degli insediamenti altrimenti può raccogliere le tasse e quindi avere un bonus su quello che è il domain taxes nel caso del nostro grand measure bot stain è più 6% Marshall altro ruolo molto importante in questo momento è nostro zio il principe Eric di Sweden ad avere questo incarico e come vedete dal suo spadone è colui che si occupa della parte militare può gestire la Royal Guards del nostro re può migliorare e questo è uno dei tassi che utilizzerete spesso il controllo in una contea questo che cosa succede conquistato una contea che non vi appartiene ma talvolta può succedere anche all'interno delle vostre stesse contee in cui ci sono dei passaggi un po' poco contenti o allo stesso modo in cui ci sono delle situazioni di disagio da parte della popolazione e lui interviene cercando di reprimere qualsiasi modo di protesta e di far sì che loro vi supportino Train Commanders quindi può migliorare le martial skills dei nostri consiglieri e infine può organizzare le armi che è l'effetto base che è quello che ovviamente migliora il mantenimento lo fa costare di meno il mantenimento delle nostre truppe migliora le truppe progressivamente che aumenteranno le levis mano a mano del loro numero e soprattutto velocizza il rinforzo nel caso di perdite ultimo ruolo è quello dello spy master che ha tre compiti quello di trovare i segreti a corte quello di supportare eventuali schemi che noi possiamo fare nei confronti di altri personaggi o quello di rompere gli schemi che qualcuno sta facendo ai nostri danni può per esempio salvarci la vita da un tentativo di omicidio attenzione ad avere sempre uno spy master molto fedele perché altrimenti potrebbe essere lui stesso che in qualche modo partecipa ai nostri danni e questo lo scopriremo vedendo quello che noi possiamo fare negli altri intrighi e direi che con questa parte del consiglio rimanendoci gli ultimi quattro quattro bottoni possiamo fermare qui questo secondo episodio di tutorial e come al solito se avete domande scrivete nei commenti e ci vediamo al prossimo tutorial e qui 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 qui